dai vai fare capito vado a te vi trovate vado a fiume ciocci voglio essere carini devo stare a mettere nel roteo allora 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 e molti team vabbè normale finnacoli ma avete canale youtube voi ragazzi no no io si sento quanti stritti non mi sento quando sono buoni ma anche io ne ho tanti anno 91 una terra e di quali molti tempi siamo stavoli qua c'è uno c'è uno una volta agli anni che non c'era scala ecco c'è gente c'è figlia è una puttana ragazzi sto allargando vabbè vabbè seconda partita ragazzi la terza è la buona se trovate l'arco datemelo che sono una bestia non si può 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 il live su youtube non posso sennò mi banno tutta colpa della mia skin tutta colpa della mia skin va bene e possiamo finire di niente secondo me non siamo bravi i giocatori lì fuori allora io metto la schiena del gioco magica mu l'arriva la fula a farlo scorrere di più ti infilo la bacchetta del tabu magica mu di più ce l'avete tutti con la skin di cristiano peccato se ce l'avevate la mettevano tutti ma ma per te gialli dopo un po' non c'ha fin fortuna ecco avete tutti i covaliari rossi? c'è io ce l'avevo io ce l'avevo guarda scusate guarda si ce l'avevo? ma hai tutto? avevi tutto? adesso non le chiudete guarda che me la schiena guarda che me la schiena sono nato ma cacca ragazzi trovate l'arco ragazzi trovate l'arco me lo potete dare per favore ma certo che si ma certo che si ma certo che no questa già non mi piace come risposta eh no è puzza sta risposta puzza di merda non mi piace ma c'è cosa so scherzati però tanto non so accaparmi con l'arco perfetto eh bro sei il fratello di colpore sei il fratello di colpore cicala chi è? che vuoi? vado in live sono in live vatti a vederla live mi chiamo cicala 101 su youtube ho 91 iscritti regala qua ci sono l'arma regà oh vado io 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 vado lo metto non sto a lama c'è c'è le paranoie bro non stare sulla mania ah non è vero c'è ci sono l'amore io non lo io cazzo arrivo papalama arrivo cicala ma se non c'entra papalama mio padre io sono cittadini ho scelto e non mi sono mai mai e io mi voglio dire la mia storia ma ho fatto tutto aiuto eh ma ti dico le parole eh scusate non è vero le parole sono scoperte ma sono scoperte ma non è un amichetto tipo quelli figli di puttaco come quelli di prima ci hanno ucciso vedi vedete potrebbero morire ehm no non ho appena letto una parolaccia ragazzi era semplicemente un linguaggio maturo una persona normale voleva dire un altro voleva dire i figli una bella persona non è giusto che si gli esprisci Dio no infatti è vero Dio ci porta fortuna ragazzi avete qualche arma che c'ho il piccone e l'uccello io vabbè 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 c'è una pistola io io anch'io c'è una pistola epica ma pene si tracciata per esempio mi fa cagare non si riesca a pubblicarla eh eh ha appena usato ma c'è una pistola vabbè c'è il bastoncino di nonno arriva canna oh arrivo ci sono tutti morti arrivo ora appena torna sul gioco vedi che ha morto che c'è che c'è ma perchè non puoi morire stai zitto raga ma c'è gente qui qui raga sono con te sei con me sono da solo 30 blu vai vai aiuto raga vieni ma tu pure tu sparisci io vado a conciugare aiuto raga aiuto raga mi stanno stupendo vado a giocare 30 blu ha quello sotto di cristiano 30 blu ucciso cristiano vattene a ammazzare qua a terra no è bianco questo ora lasciatemi qualcosa per favore che mi sono rimasti per scorrere bella la mia kill grazie lasciami il lutto cristiano c'è un altro di cristiano a terra davanti a terra ce ne sta uno si 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 è tutto tuo è tutto tuo è tutto tuo bella 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 aspetta che sto dando la copina no 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 oh che sta storia oh c'è la mamma banana però dove sei mia mamma banana ma vabbè tavolo tavolo è che venga sto figlio di una banana l'ora io so dov'è io so è so per tutto le piace proprio la padana eh sono madre prendi mi piace se muoio per colpa vostra mi chiedo andate calmo no scherzavo 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 no ma non c'ho paura io non so abbe stai perché devo avere paura di una bomba l'altro ma c'è la mamma puttana proprio vediamo se muore nella trappola vediamo se muore nella trappola ma fangulo figli di puttana raga bannate loro dovete bannarlo c'è la mamma troia rostituta vai entra no che cazzo di coglione vaffanio è abbandonato oh qualcuno che si iscrive al mio canale ragazzi a me arriva 100 iscritti io 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 dov'è? 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 cerca mi cicala 101 come ci chiama? eh? come si chiama? io 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 cicala 101 Cicada 51 Come? Cicada 51 Ovvio mi sono scritto Ma non c'è Cicada 51 Ovvio mi like che bello Pensate 53 Cicada 47 Ma non eccessa No, non credo ci sia anche il Zub un po' io non lo trovo la giunta può 2-1 la giunta può 2-1 no 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 non lo trovo non lo trovo anche io guarda che c'è porca puttana oh vaffanculo va il gatto raga il gatto ma cagato per terra bella carlo bella carlo chi è carlo merlo ah bella sei carlo dai ragazzi 92 iscritti arriva ai 100 faccio il contest tra 100 euro eh eh lo so è normale perché ho un ritardo di tipo 5 secondi o 10 perché almeno posso vedere i commenti più velocemente quando escono occhio cristiano occhio cristiano occhio cristiano ci sta un cattolico lì eh ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso occhio Gino ci sta uno sotto di te no allora occhio dell'isis occhio come buddista can Giurno come buddista cazzo la matta Rio è sceso è sceso alla bella mamma mia cristiano cristiano c'è un giocattino città ma non lo so ora c'è un razza a te in testa moriamo tutti eccolo la città tutti dentro tutti dentro cazzo si arcomaleno è l'ultimo sopravvissuto vai tio dai ragazzi ora mi impegno ma comunque io non lo provo provo a scrivere ci cala provate a scrivere ci cala 101 staccato 101 due volte 101 ok capito capito dovete scrivere ci cala 101 staccato 101 due volte 101 allora ci cala 101 attaccato staccato 101 un 101 attaccato e un 101 attaccato ragazzi non non lo 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 non no non no 90 0 no 10 scuola carlo berno uomo cittadini scuola il tavolo staccato io se non mi fa il voto la città la rara benedetto per la mia vita ma questa è una cosa che non si tratta Ragazzi questa è vinta Ci sono ancora i punti Oh raga nessuno venga con me Questa me la voglio giocare da solo Ci sono ancora i punti Eh si si va in chat gioco Ragazzi appena morite Guardatevi alla live Guardatemi giocare dai Ci vediamo dopo Guardatevi 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 Facciamoci ragazzo di Victory Royale Allora andiamo un po' a fagiani Vediamo qualche fagiano Di buona qualità da ammazzare Allora sento dei fagiani sbarare Occhio, occhio, fagiano, allerta fagiani In corso, dove sono, dove sono? Pignacoli, pignacoli, dai Dai che ammazzo tutti, cazzo Vabbè, sta cosa però è brutta Oh, nidercop, pompa blu Cassa, oh mio Dio Se trovo il bar da te ragazzi Ma la gente se ne può andare a casa Che l'hanno perso Non hanno capito Cristiano è morto, povero Cristiano Ti vorrò bene Come sempre non trovo un cazzo Perché sono sfigato come un dito nel culo Vabbè Oh, devono andare a zero Un altro C'è gente, ok Ma dove cazzo sta l'intera giù Eccolo, eccolo Paperà Paperà, paperà, paperà Paperà, paperà, paperà Mi tocca andarlo a ammazzare Sto lurido coglione Si nasce Uè amico Vendo che va Ma che cazzo dici Vaffanculo Vaffanculo 95 in testa Non ci credo Cosa del merda Eccomi ragazzi Dai, trovo un cio Ma non ci sono male Una è a poca vita Uno l'ho tolto 95 in testa Sì Ehm Ehm A uno l'ho fatto per anche Raga Quanto a due Lui ma però L'ho fatto un bordo Sì, c'è per il tetto Sì, c'è per il tetto Sì, c'è per il tetto Porco a due però Rantino, regà Se sei qua Guarda, c'è per il tetto C'è per il tetto C'è per il tetto Balla Ammazza sta banana Nel cazzo Dietro le scatole Dietro le scatole Ebre nove cazzo I c'eri sopra Gino Porca puttare Dietro le scatole Da destra Da destra Gino Ecco, eccolo Raga, capiglia La scheda di Cristiano Prima che muoia Davide Davide Viaggio Regà, la scheda di Cristiano Poverino Sì, stanno Sì, stanno Sì, stanno Vai, resta Sì, resta Sì, stanno Oh, c'è C'è cinque Balla Come c'è C'è cinque bene no cristiano cristiano non mi tra dire così però o niente 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 ragazzi da sopra la sopra la gara ha detto qui da me e io ho la pistola di merda però anche da qua ma ragazzi io volevo arrivare ci vediamo dopo vado a fare in alcune singolo perchè non riesco a giocare dai bella guardatevi la live se volete dai io ciao raga ok allora in singolo riesco a giocare ma in squadra no mai non capisco perchè no su principi ragazzi non scopriamo farmi le vittorie c'è ci riesco a non una squadra non scopriamo il po Pass battaglia a livello quasi In centro ragazzi dai Spero di farcela Completarlo 11 giorni Balletto prima che incominci Andiamoci a fare una cazzo di vittoria ragazzi Allora Tutto Unito trasmesso Caricami subito la skin Ok Ok Unito me la voglio fare Dai eh Tanto controllatemi l'impostazione di mira come sono 24 23 Unito 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 con le cicale non si scherza vamos a farci una vittoria sono quasi sicuro che ci sia gente eccolo eccoci qua a fare le prime kill ragazzi belle ripeto in team non riesco a giocare quindi mi dispiace per quei poveri ragazzi erano forti in cloro però in team ragazzi non mi riesco a concentrare io quindi niente faccio un paio di singolo dove sono forte eeeh no vabbè le posso tenerle oh devo inventarti da zero uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh uuuuuh uuuuh io zion c'è qui dentro ok ok ragazzi dopo questa stacco che devo andare a mangiare mi dispiace ma ne faccio solo una buona buona carina come aveva oh regà che palle non c'è più nessuno non mi diverto quando c'è nessuno ah non c'è nessuno mi stufa a ruttare non c'ho la via dimmi che c'è il 2v3 epico ah vabbè io lo sconti ma io non c'ho la via non c'è nessuno non c'è nessuno Lascio la R perché sono sicuro che ci trovo intanto lo scarro, quindi a posto. In teoria c'è la fellitura, a posto. Non mi piace che mi bruciano ora perché non ho la R. Ho ancora un minuto e trenta per arrivare in safe. In teoria c'è la pelacarote qua, c'è arrivo, che c'è? Oh no. Oh no. No, 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 no. No, 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 no. Caccia blu. Un attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.